Musica Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio Veneto. Un giovane di 28 anni di Latina ma residente a Padova è stato arrestato dai carabinieri di Abano Terme. L'accusa nei suoi confronti è estorsione aggravata e continuata. L'indagine aveva preso il via da una denuncia presentata nei mesi scorsi da un giovane esasperato dalla continua richiesta di denaro da parte di un conoscente. Dalle indagini era emerso che dopo una serie di incontri a pagamento questi aveva cominciato a chiedere al giovane del denaro fino a 5.000 euro alla volta minacciandolo di rivelare ad amici e conoscenti il suo orientamento sessuale. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri la vittima avrebbe consegnato complessivamente più di 37.000 euro in parte coperti dall'accensione di un prestito per 10.000 euro. E adesso dobbiamo parlare di una tragedia della strada, una tragedia nella quale ha perso la vita una giovane donna. Un incidente che è avvenuto questa notte intorno alle 4 in provincia di Padova, a Sarmeola di Rubano. Tragico incidente stradale a Sarmeola di Rubano in provincia di Padova. Nella notte una ragazza di 27 anni lungo la strada regionale 11 in via della Providenza ha perso il controllo dell'auto che stava guidando, una Polo, ed è finita prima contro una ringhiera, poi addosso ad un muro. Uno schianto violentissimo che non le ha dato scampo. Al volante c'era Chiara Bonetto, probabilmente era in direzione di casa. L'incidente è avvenuto alle 4. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il corpo della giovane dalla macchina ridotta ad un ammasso di lamiere. Il personale del 118 non ha che potuto dichiarare la morte della giovane donna. La polizia stradale che ha eseguito i rilevi dovrà ricostruire la dinamica del sinistro. Trovato senza vita il quarantenne scomparso nel bellunese dal 26 gennaio scorso. Il corpo di Hermes Franzonia è stato ritrovato grazie alla segnalazione di alcuni volontari della protezione civile dell'ANA che con il binocolo avevano visto qualcosa in fondo ad un canale lungo strada Caldella. Il punto tra l'altro è poco distante dal luogo di ritrovamento dell'auto dell'uomo. Da una prima ricostruzione la vittima si deve essere allontanata dall'automobile iniziando a scendere verso Tovena fino a trovare il canale che probabilmente ha preso pensando lo portasse alla strada sottostante. Lì purtroppo quando la gola è diventata sempre più impervia e verticale deve essere scivolato e ruzzolato per decine di metri. Di ieri la notizia dell'arresto di un poliziotto della questura di Padova per presunte tangenti. Altri agenti potrebbero essere coinvolti. Il questore nella serata di ieri ha preso dei provvedimenti immediati. Sentiamo di cosa si tratta. Dopo le vicende legate alle presunte tangenti ricevute da alcuni poliziotti della questura di Padova per regolarizzare alcuni cittadini cinesi sul territorio il questore ha preso dei provvedimenti nei confronti del personale coinvolto. Sospensione immediata dal servizio del sovrintendente capo Renzo Dallacosta arrestato nel corso della mattinata in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Margherita Brunello. Nella stessa indagine, oltre a diverse persone a vario titolo coinvolte, sono stati deferiti in stato di libertà anche sei appartenenti alla Polizia di Stato. Uno degli agenti indagati è in pensione da alcune settimane. Un altro è assente dal servizio dal 2013. Un terzo presta servizio fuori provincia, mentre gli altri tre già in servizio presso il locale ufficio in migrazione sono stati cautelativamente trasferiti ad altro incarico, in attesa che la loro posizione sia definita in sede processuale. La polizia è intervenuta la scorsa notte davanti al bingo di Mestre per una violenta lite. Una chiamata al 113 ha allertato che quattro persone si stavano picchiando, scagliandosi contro anche alcuni oggetti, tra cui delle sedie di ferro. Dagli accertamenti degli agenti è emerso che due ubriachi avevano aggredito i buttafuori del locale. Uno degli aggressori è caduto anche a terra, battendo violentemente la testa e perdendo i sensi. Anche i buttafuori hanno riportato svariate ferite superficiali al volto in seguito alla collutazione. Sul posto dunque è stato necessario anche l'intervento del 118. Un veneziano di 44 anni è stato denunciato per lesioni aggravate. Imponente operazione della Guardia di Finanza, entrata in azione con 50 uomini e unità cinofile. Parliamo di un'operazione antidroga. Vi raccontiamo i particolari. Nelle prime ore di martedì, 50 agenti della Guardia di Finanza di Trieste e Pordenone sono entrati in azione per un'operazione contro un traffico internazionale di droga. Sgominata un'organizzazione che aveva base a Pordenone, perquisizioni eseguite tra Pordenone e Treviso, eseguite tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. Si tratta della prosecuzione di un'operazione delle Fiamme Gialle di Trieste che ha già portato all'arresto di 11 persone, tra corrieri e complici, con il sequestro di 2,3 kg di cocaina, 250 g di mannitolo, sostanza per il taglio dello stupefacente, 7.000 euro in contanti e un'automobile. Dalle indagini è emerso che il traffico veniva gestito da dominicani e italiani attraverso la Spagna. La droga era destinata al mercato del Friuli Venezia Giulia. A trasportare lo stupefacente erano corrieri che ingoiavano ovuli. Il prefetto di Padova, Patrizia Impresa, in procinto di lasciare l'attuale incarico della città di Padova, si è recata presso la questura di Padova per rivolgere un saluto di commiato. accolta dal questore Gianfranco Bernabei, il prefetto ha incontrato i dirigenti e i funzionari di polizia della provincia di Padova, ai quali ha espresso la propria soddisfazione per l'esperienza vissuta sul territorio padovano. Vi ricordo che è stata in città per tre anni e ha espresso la propria gratitudine per la collaborazione data e l'eccellente lavoro svolto in questi anni. Il questore Bernabei ha consegnato una targa ricordo della questura al prefetto Impresa come segno tangibile di stima e ringraziamento di tutta la polizia di Stato Padovana per l'importante opera di promozione e consolidamento delle sinergie presenti sul territorio condotta in questi anni. Ricordiamo anche che il prefetto, Patrizia Impresa, assumerà ora l'incarico di vice capo gabinetto vicario del ministro degli interni. E adesso restiamo ancora a Padova, parliamo del nuovo ospedale. Sentiamo le dichiarazioni della Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha rilasciato oggi alla stampa. A Padova la questione del nuovo ospedale resta un punto dolente. Quando mancava poco la firma conclusiva, la giunta comunale guidata da Massimo Bitonci è stata fatta cadere. Una mossa studiata a tavolino proprio per bloccare la prosecuzione delle procedure alle quali mancava solo la firma del Comune. Ne è convinto Massimo Bitonci che in ogni incontro pubblico non manca di sottolinearlo. Sull'argomento ora è intervenuto anche il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che invita tutti i partiti a fare un passo indietro con senso civico ed etico, perché sbloccare il nuovo ospedale significa sbloccare le cure a tante persone. Sì, noi siamo pronti per partire, abbiamo chiuso un bell'accordo del Comune. Noi, Università di Padova, abbiamo già approvato l'accordo di programma, quindi siamo pronti per la firma. Pensare che stiamo qui in stallo, ma questo stallo non significa fermare un'opera qualsiasi. Significa che chi non ci dà l'ok, ovvero il commissario prefettizio, non sta soppesando il peso che avrà questo ritardo sulla cura della salute dei cittadini, perché poi al fine ospedale, policlinico universitario vuol dire un ospedale che curerà ancora meglio i cittadini. Al Presidente Veneto è stato chiesto anche, senza mezzi termini, chi sta tenendo, secondo lui, bloccato il procedimento per proseguire con l'opera. Se lo sapessi farei nomi e cognomi. La verità è che due indizi fanno una prova, abbiamo indizi in continuazione che ci fanno capire che il commissario di governo non firma, non è disponibile, non ha i poteri e altre robe del genere. Io dico che questa è una partita dei Veneti, se è già stata decisa si firmi e ci lasciano lavorare. È stata rintracciata in una struttura ricettiva di Vicenza una ragazzina minorenne che si era allontanata da una zona del Bellunese due mesi fa. La denuncia era stata formalizzata nei primi di dicembre. Alla ragazzina del Camerum si è arrivati grazie alla telefonata di una telespettatrice, una 65enne vicentina, di una trasmissione televisiva che ha chiamato il 113. Immediatamente la polizia di Vicenza, che oggi ha fornito i dettagli della storia, ha provveduto ad avvisare la procura presso il Tribunale dei Minori di Venezia in ossequio alle procedure. La minore è stata successivamente affidata alla famiglia di origine. Tra pochi giorni sarà celebrata la giornata del ricordo per non dimenticare le foibe. La Regione Veneto oggi ha dato il via ad un protocollo d'intesa. Sentiamo di cosa si tratta. I ragazzi delle scuole primarie e secondarie del Veneto dovranno conoscere e capire gli eventi che portarono alla tragedia delle foibe e dell'esodo degli italiani dall'Istria e dalla Dalmazia. Lo prevede il protocollo d'intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale e Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. La giunta regionale, su proposta dell'assessora all'istruzione Elena Donazzanna, ha approvato l'intesa, che sarà valida per tre anni. Sottoscriverò pubblicamente il protocollo dopo domani nella sede del Consiglio regionale alla vigilia del giorno del ricordo, che si celebra in tutta Italia per legge nazionale il 10 febbraio, annuncia l'assessore Donazzanna. L'obiettivo di questa intesa tra istituzioni, educatori e testimoni di quegli eventi è di non relegare il 10 febbraio a un anniversario tra i tanti, ma di fare della vicenda delle foibe e dell'esodo, sconosciuta e più, sino a pochi anni fa, materia di approfondimento scolastico con persone aperte e qualificate dal punto di vista storiografico. Dice l'assessore, credo sia un dovere della scuola e delle istituzioni rimuovere la coltre di silenzio che ha coperto per decenni una pagina dolorosa e vergognosa della nostra storia e rendere i più giovani partecipi di una vicenda che ha segnato la vita di molte comunità venete che hanno accolto, dal 1946 al 1954 decine di migliaia di esuli. Ed ora parliamo di clima. L'attuale fase di alta pressione è destinata a interrompersi. Già dalla giornata di domani si avvicinerà alla nostra regione una depressione che attualmente si trova sulla Gran Bretagna. toccherà la nostra area però soltanto in maniera marginale. Quindi fino a sabato il tempo resterà tra il ciclonico e l'anticiclonico. Le giornate in prevalenza saranno variabilmente nuvolose, mercoledì e venerdì con alcune precipitazioni. Siamo arrivati al termine di questa edizione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Vi aspetto domani. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera, sono Belinda D'Angelo, trasmetto dallo studio Pilates e altro in centro a Padova. Anche stasera vi faremo conoscere una nuova attività. In realtà si parla da qualche tempo di questa mezza sfera chiamata Bosu, che è un attrezzo americano. Noi in realtà lo utilizziamo dal 2012. Lo utilizziamo in maniera dinamica, di cui adesso Roberto, mentre io parlo, inizia a farvi vedere qualcosa. Solitamente nelle palestre si utilizza in maniera dinamica. Noi quando lavoriamo in maniera dinamica però non prendiamo mai i principi del Pilates. Soprattutto quando si fanno le attività dinamiche. Bisogna stare attenti alla respirazione, alla postura, all'allineamento degli arti, all'allungamento della colonna, ok? Perché se no si rischia di farsi male. Invece molte volte quando si lavora con tante persone, le persone guardano l'insegnante e cercano di correre dietro e quindi non hanno il tempo di pensare a che cosa stanno facendo. Invece i nostri corsi collettivi sono massimo di 6-8 persone in modo da poterli seguire tutti in maniera corretta, anche quando lavoriamo in maniera dinamica. Lavoriamo anche, appunto, come avete visto, sull'equilibrio, molto importante. Cosa serve lavorare sull'equilibrio? Beh, ci aiuta ad essere più reattivi se magari mentre camminiamo incontriamo la cosiddetta buccia di banana, che non è poco, no? E lavorare in maniera aerobica serve ovviamente al cuore, che è un muscolo, e quindi va allenato. Le lezioni solitamente si svolgono in una parte iniziale dinamica, anche per alzare la temperatura corporea, e poi si passa nel fare degli esercizi. Si può utilizzare il boso da una parte e anche dall'altra. Ovviamente, in questo caso, è più instabile. L'instabilità, ad esempio, in questi tipi di esercizi che sta facendo Roberto adesso, viene utilizzato molto per chi, ad esempio, deve fare surf. Quindi, ad esempio, deve fare delle attività dove gli serve molto stare in equilibrio, no? Nell'acqua, se le onde sono alte e il mare non è proprio calmo. E quindi questa è tutta una propedeutica che serve molto. Come vedete, veramente si spazia molto. Ma qui da noi lavoriamo sempre sulla qualità, su qualsiasi cosa che facciamo. Poi il boso può essere utilizzato per fare un movimento della colonna, ad esempio. Ci muovo la colonna, torno, ok? Allungo. Posso fare degli esercizi per gli addominali, quindi dove devo stare in equilibrio. Qui, questi sono tutti gli esercizi di Pilates. Quindi, vedete, il boso è veramente un attrezzo che si può utilizzare in molte funzioni. Però è sempre importante come si utilizza, qual è l'obiettivo e quali sono i benefici, ok? Perciò il beneficio è sempre buono quando si lavora in maniera corretta. Un esercizio che io uso molto con il boso per insegnare alle persone ad utilizzare su un peso, ad esempio, è questo. Immaginare che questo sia un vaso di fiori, ok? Perciò lo faccio utilizzando le gambe e le braccia, ok? E vengo su. Posso anche decidere di portarlo su, ok? Ma le braccia e le gambe lavorano mentre la colonna è ferma. E in questo modo non mi faccio male. Vi aspettiamo per i nostri corsi collettivi su Bosu, ma non solo. e le prossime serate vi presenteremo ancora delle cose molto interessanti, vero Roberto? Sicuramente. Noi siamo qui e vi aspettiamo. Buona serata a tutti. Ciao a tutti.